E' un saggio che finiranno, uno e due figlie di gestualità. Un applauso di essere più forte! Un applauso di essere più forte! Un applauso di essere più forte! Grazie. 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 Vi facciamo un grandissimo applauso. Sono i ragazzi di Sol Pumarico. I Menti, Cristina Bascazzoni. E' quel qua. Bravo. L'applauso è tutto mostro. Facciamo un ultimo applauso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto, ciao. Maglio speciale. Siamo tutti. Magnthat Capp то. Bellis Volt. Grazie a tutti.